Ha preso il via oggi la 41esima edizione della Notte di Fiaba, che fino a domenica trasformerà Riva del Garda nel luogo del sogno e della fantasia per salutare nel modo più spettacolare, allegro e divertente l'estate che lentamente se ne va. Il cuore dell'evento, dedicato ai bambini e alle famiglie, è rappresentato da spettacoli e narrazioni, musica e intrattenimento, laboratori e giochi, viaggi nella fiaba che animeranno le quattro giornate organizzate dal Comitato Manifestazioni Rivane, con il patrocinio di In Garda Trentino. Protagonista di questa edizione sarà Cappuccetto Rosso, il personaggio della fiaba immortale, la cui versione più nota è quella dei fratelli Grimm, che con una serie infinita di eventi riempiranno piazze, strade e luoghi storici di Riva del Garda. Il calendario propone anche musica e intrattenimento, come il Mercatino del Solito e dell'Insolito, in Viale Dante e Viale Roma, gli spettacoli serali I Misanthropi, Accademia Danza e Ballo di Dro e Pausa Merlot, numerosi parti e il concerto del Corpo Bandistico Riva del Garda. Coinvolto anche il MAG, Museo Alto Garda, che ospiterà la mostra di illustrazioni La vera storia di Cappuccetto Rosso. Da non perdere lo spettacolo itinerante per le vie del centro cittadino Cappuccetto Rosso a più non posso, con i lupus in fabula. Ricordiamo che per questo evento è necessaria la prenotazione e che è a pagamento. Infine lo spettacolo pirotecnico di sabato sera alle ore 22. Tutto pronto per l'avvio di questa notte di fiaba? Saranno giornate intense? Sì, siamo pronti. A minuti parte con la prima scena della rappresentazione. Noi non abbiamo cerimonie di nessun tipo, né ufficiali né semi-ufficiali. Si parte proprio con il primo quadro del primo racconto. E sì, saranno giornate intense perché gli appuntamenti sono tanti. Per fortuna siamo in tanti a dedicarci a questa manifestazione. Per cui penso che come di consueto il tutto andrà per il meglio. Una manifestazione che si svolge anche grazie a numerosi volontari. Sì, numerosissimi volontari. Diciamo che il comitato è fatto da una trentina di persone, ma per la notte del fiaba riusciamo a raccogliere anche 120 altre persone, insomma aiutanti, che sono i veri volontari della notte di fiaba, tutti con compiti diversi, turni, perché parliamo di quattro giorni, per cui è quattro giorni che partano dalla mattina alle 10, quindi per le 10 bisogna essere pronti per non cominciare a lavorare prima, fino all'ultimo evento che è attorno alle 23 e poi bisogna mettere a posto, per cui insomma le ore anche da fare sono tante. C'è qualche novità riguardo allo spettacolo pirotecnico? No, lo spettacolo pirotecnico sarà classico. Per la verità è un po' che stiamo pensando anche a introdurre delle modifiche al spettacolo pirotecnico, magari perché no, anche ragionando sul discorso dei rumori. però diciamo che il problema è legato ad alcune questioni tecniche ed anche ad alcune questioni finanziarie, perché per esempio nel nostro cuore è rimasto sempre l'idea di fare i fuochi piromusicali, ma costano molto di più dei fuochi che stiamo facendo tradizionalmente. Allora Cappuccetto Rosso, cosa dobbiamo aspettarci da te qui a Riva del Garda? Sarà una fiaba bellissima, ma soprattutto devo stare attenta e devo decidere quale strada prendere e quindi i bambini dovranno aiutarmi. Sindaco, la notte di fiaba è l'evento clou delle manifestazioni di Riva, anche quest'anno sarà un fine settimana veramente importante per la città. Evento clou è da sempre considerato come la fine della stagione turistica, invece si pone quasi alla metà, se non ai due terzi della stagione turistica. Un'iniziativa importantissima, molto legata, fra il resto, una delle poche legata ai cittadini, ma anche al turismo italiano. Quindi un appuntamento per le famiglie che porterà migliaia di persone a Riva, quindi un appuntamento molto importante. Un appuntamento importante per la nostra comunità per due motivazioni. La prima perché Riva è la seconda comunità del Trentino, che si è dettata del marchio Family ed è capofila del distritto della famiglia. L'onore al Comitato Manifestazioni Rivanne, che oltre questo fa l'appuntamento anche della Casa di Via Buonatale, che è legato in modo particolare ai piccoli, ai giovani, ai ragazzi e alle famiglie. Quindi due appuntamenti importanti che ci pongono a livello nazionale di noi primi comuni che ha questa attenzione. Io sono il lupo, sì, sì, e anche io partecipo a questa fiaba e come avrete notato è un bel po' di tempo che partecipo a questa fiaba. Infatti scommetto che anche te da bambino, vero, ti raccontavano la fiaba di Capucetto Rosso. Ecco, pensa quanti anni sono passati e io me le sono fatte tutte. E comunque bisogna aiutarla questa bambina a scegliere la strada, vero Capucetto Rosso, perché c'è la strada breve ma pericolosa, è quella lunga ma sicura, vero? E quindi i dubbi tuoi sono tanti, strada facile. Eh sì, strada facile ma pericolosa o difficile ma sicura? Questo è un grande problema. E allora cosa consigliamo? E allora consigliamo di venire a fare il viaggio nella fiaba per scoprire che strada Capucetto Rosso sceglierà. Ciao a tutti! Ciao!